Ciao, diamo ora un'occhiata approfondita a tutto ciò che il modulo allenamenti di Clubic ha da offrire. Dal nostro strumento potrai pianificare e stabilire tutti gli allenamenti e le sessioni che farai durante la stagione, configurandone il calendario, la frequenza e la ripetizione per giorni, settimane o addirittura mesi. Con le sessioni di allenamento già create nel calendario è possibile modificare e preparare una descrizione dettagliata di ciascuna di esse, scrivendo istruzioni per i giocatori o allegando documenti, schemi, foto o video che descrivono le attività da svolgere in quella sessione. Gli utenti e giocatori che accedono dall'app avranno automaticamente accesso al calendario, alle sessioni di allenamento e alle istruzioni impartite dal proprio allenatore per ogni sessione. Inoltre gli utenti con un ruolo allenatore potranno registrare le presenze ad ogni seduta in modo molto rapido e dinamico. Dal campo stesso e attraverso il telefono l'allenatore potrà annotare chi ha partecipato e chi ha saltato ogni sessione, il motivo dell'assenza e persino aggiungere eventuali commenti. Inoltre sarà in grado di fare una valutazione e una relazione completa dopo ogni allenamento. Dal pannello dell'amministratore, il responsabile del club, può sempre accedere a un report storico del controllo delle presenze dei giocatori per verificare chi ha partecipato e quando, quante assenza ha fatto un giocatore in un mese o anche tenere traccia di infortuni e recuperi grazie al modulo dettagliato sugli infortuni.